Alcuni dei nostri TV offrono la tecnologia wireless Bluetooth per la trasmissione a brevi distanze. Questa connessione può essere utilizzata per una varietà di dispositivi audio esterni che utilizzano il sistema di comunicazione 2,45 GHz. Per attivare la modalità Bluetooth è necessario prima abilitare questa impostazione nel menu audio. Alcuni televisori recenti chiamano questa modalità Audio Link. Una volta abilitato il televisore, si dovrà poi accoppiare il dispositivo audio con il televisore. Accendi le cuffie o gli altoparlanti Bluetooth e mettili in modalità di abbinamento. Il tuo dispositivo Bluetooth avrà normalmente un'indicazione luminosa, quindi nel sottomenu premere il tasto verde sul telecomando del televisore per scoprire i dispositivi. Verrà visualizzato un elenco di dispositivi Bluetooth disponibili. Selezionare il dispositivo che si desidera collegare dall'elenco e premere il tasto OK per accoppiare il dispositivo. Se viene visualizzato il messaggio Dispositivo connesso, l'accoppiamento è andato a buon fine. Se la connessione fallisce, riprovare. Ricordarsi di disaccoppiare o spegnere qualsiasi altro dispositivo audio collegato prima di provare a connettere una nuova unità Bluetooth. Non tutti i dispositivi Bluetooth possono essere riconosciuti. Hanno bisogno di utilizzare la tecnologia Bluetooth più recente, altrimenti potrebbero non essere rilevati dalla TV. In più, il dispositivo avrà bisogno di un controllo indipendente del volume per la regolazione del livello di audio. Sarà in grado di collegare i dispositivi audio al televisore tramite Bluetooth. Poiché la maggior parte dei vecchi sistemi di altoparlanti esterni non hanno una connessione Bluetooth, è possibile acquistare un convertitore Bluetooth per connettersi in modalità wireless con la TV Bluetooth. Ora puoi goderti diverse opzioni audio usando l'uscita wireless Bluetooth.